È scomparso all'età di 78 anni, il principe Amedeo di Savoia, duca d'Aosta, era ricoverato all'ospedale San Donato di Arezzo, la morte è sopraggiunta per arresto cardiaco. Nato a Firenze nel 1943, Amedeo di Savoia, a Osta, era figlio di Aimone di Savoia per un breve periodo, re di Croazia. Nel 2006 balzò agli onori delle cronache per la sua decisione di rivendicare il titolo di duca di Savoia e il ruolo di capo della Real Casa, in contrasto con Vittorio Emanuele di Savoia, padre di Emanuele Filiberto. La sua storia è legata al territorio aretino ed in particolare al Valdarno, sua alla tenuta del borro che si trova all'Orociuffenna, dove ha vissuto fino al 1999, anno in cui cede la proprietà, a Salvatore Ferragamo che ne farà un resort di lusso. Lo conoscevate? Sì, ogni tanto capitava qui a fare colazione, con la moglie. Bravissima persona, per noi, nel senso, sempre educato, bravo, dispiace, una brutta notizia. Ci avevate mai parlato delle vicende magari legate alla famiglia? Assolutamente no, assolutamente no. Adesso viveva nella tenuta di Meliciano, comune di Castiglion-Fibocchi, dove produceva olio e vino. Imprenditore dunque del settore vitivinicolo e personaggio eclettico, allo stesso momento fu lui a chiedere scusa per le leggi razziali avallate dal re nel periodo del fascismo. Sì, 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 molto bravo persone, anche sempre salutavo quanto passa qui, dire come stai, famiglia, tutto bene. Speriamo che Dio, anche lui, anche paradiso, anche tutto, anche molto bravo persone.